Non solo stanno suonando le campane, ma piove sul bagnato. Probabilmente non lo sentite, ma forse si sente, quando il fatto è particolarmente croccante. Vi abbiamo raccontato ancora due testimonianze di donne che denunciano di essere state rovinate, in alcuni casi anche in maniera piuttosto seria, dal dottor Antonio Francesco Franco, ma nelle ultime ore c'è giunta una chat particolarmente interessante per farvi capire perché certe persone si comportano in codesto modo. C'è un'amica di Franco che lo contatta per salutarlo. Questa amica gli fa capire come può essere in questo momento in una bufera, e gli dice, ma guarda sei nel piede della bufera ogni giorno ti sta pubblicando un video questo giornalista. E lui dice, boh, cazzi suoi, cerca fama ma non mi interessa nulla. Capisci bene come a noi la fama basta e avanza. E soprattutto non ci guadagniamo rispetto alla credulità della gente. Noi facciamo il nostro lavoro e andiamo avanti tranquillamente. Chi iniziava da zero con la laurea presa in Romania in realtà è estetico franco, forse. Chi aveva bisogno di notorietà per poter continuare a fare interventi nonostante tutte le cose negative venute fuori all'inizio della sua carriera. E resta è estetico franco. Oh no, Tino, che dici? Dovrebbe essere così. Ma fama, dice Loconte, non credo, Loconte ha già abbastanza fame. Ha già abbastanza fama. Quindi non credo sia questo il caso proprio di Loconte. Il problema vero, Tino, è che fa notare questa persona non è tanto ciò che dice Loconte, è ciò che raccontano le donne, gli uomini che sono stati trattati o maltrattati da lui nelle interviste. Quelle non sono considerazioni di Loconte in nessun modo. E lui ride, lui ride, si sganascia, si sbellica dalle risate, Tino. E' perché nessun giornale, nemmeno uno, ha riportato la notizia. Ed è questo il problema di questi uomini, di questi professionisti o presunti tali. Il fatto che tanti di noi stanno lì a fare altro, piuttosto che dedicarsi a questo genere di cose, lasciando che tanti pazienti continuino a essere rovinati. Ma questa volta probabilmente succederà in maniera diversa. Lo annunciamo già al dottore. Nemmeno uno continua, c'è uno solo, non mi sta cagando di striscio. Lui è lì, il pazzo, a dire le cose e ad ascoltare gente. Ti sei fatta due domande. E io purtroppo mi sono dato anche la risposta. Questo è il problema, caro dottore Estetic Franco. Lei ribadisce, qui non si tratta dei giornali, si tratta di testimonianze delle persone, non c'entrano niente quello che dicono i giornalisti, c'entra ciò che dicono i pazienti. Ma poi arriva la chiave di tutto il mistero, Tino. Alla fine della fiera dice lei, si tratta di cose gravi, come sei stato tu, ovvio che sei stato tu, perché lui mette in dubbio anche che sia stato lui. Dice, è come se tutte queste donne fossero state messe insieme per ordire un complotto nei suoi confronti. Sei tu il dottor Franco, mica sono io. Forse non comprendi, rileggi la chat, dice il dottore. Perché nessuno ha mai vinto nulla? Il dottor Franco chiede a questa signora perché nessuno ha mai vinto nulla finora. Se i sveglia, se operi mille e dieci sono infelici. Ma qui i numeri sono un tantino diversi, soprattutto perché in tante non stanno facendo nulla, perché hanno tanta vergogna, sono caduti in uno stato depressivo, tanto da farsi curare da psicologi e psichiatri. Dieci, diecimila, non dovrebbero essere infelici, mica operi per il cancro. E conclude questa signora dicendo, io non ti chiamerei mai, manco morta, ti dico quello che penso. Tu no, altri sì, dice lui, ognuno fa ciò che vuole. Vedete, questo essere sprezzanti anche della giustizia, perché tanto ti fa firmare la carta in cui dice che non ti chiede un milione di euro se tu lo calugni. Calugni si scrive con la doppia N, no con la gne. Calugni, doppia N. Mi raccomando, dottor Franco, quando scrive le carte, i cavilli. Ed è vero che ognuno può scegliere ciò che vuole, ed è giusto però che chi deve scegliere abbia tutti i riferimenti, non soltanto le sue storie spesso taroccate su Instagram, su Facebook, su TikTok. Abbia tutti i riferimenti e man mano comprenda che non si tratta di uno. All'inizio era una su mille, poi siamo arrivati a cinque su mille, poi a dieci su mille. E intanto continuiamo a ricevere decine, perché dico decine, sono decine, non è un eufemismo, di segnalazioni rispetto a chi dice di essere stata maltrattata o stato maltrattato dal dottor Franco. Ognuno fa ciò che vuole, questo è vero, ma è giusto che tutti sappiano come stanno le cose. Per ora e solo per ora, con la speranza che tanti altri giornali, non solo uno, tanti altri giornali, si possano occupare di questa vicenda, è quasi tutto. Per ora, Tino, io ti lascio alla pioggia, perché in molti casi, ricordati Tino, piove sempre sul bagnato.